cari figli mentre vi invito alla preghiera per coloro che non hanno conosciuto l'amore di dio se guardaste nei vostri cuori capireste che parlo di molti di voi con cuore aperto domandatevi sinceramente se desiderate il dio vivente o volete metterlo da parte e vivere secondo il vostro volere guardatevi intorno figli miei e osservate dove va il mondo che pensa di fare tutto senza il padre e che vaga nella tenebra della prova io vi offro la luce della verità e lo spirito santo sono con voi secondo il piano di dio per aiutarvi affinché nei vostri cuori vinca mio figlio la sua croce e risurrezione come madre desidero e prego per la vostra unione con mio figlio e con la sua opera io sono qui e cedetevi vi ringrazio grazie a tutti